IEA, International Industry Learning Academy, è una scuola di formazione online per l'impresa. IEA è basata su un'avanzata piattaforma di learning e fornisce un'offerta formativa completa sia di corsi standard su tematiche generali per i vari processi aziendali, sia progetti personalizzati sulle esigenze delle singole realtà. Per le aziende, così come per gli enti formativi, la formazione online offre versatilità, qualità e accessibilità, caratteristiche oggi necessarie alle aziende che vogliono avviare percorsi formativi efficaci e di successo. IEA garantisce tutto questo. Il grande vantaggio è avere un percorso formativo raggiungibile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Basta una connessione ad internet e il materiale formativo o il training su una macchina, un nuovo prodotto, è a disposizione, riutilizzabile anche solo in parte, in ogni momento si desideri. Indiscutibili i vantaggi a livello di costi di cui beneficia l'azienda rispetto alla formazione offline. Il sistema permette inoltre di misurare in modo oggettivo i risultati raggiunti dai singoli discenti, grazie a test inseriti all'interno dei moduli formativi, nonché di ottenere dati importanti quali il tempo impiegato per l'apprendimento e la frequenza con la quale gli utenti accedono ai corsi. IEA rappresenta una grande opportunità per le imprese, italiane ed estere, in termini di organizzazione e strutturazione del bene di maggior valore, il know-how aziendale. Un corso strutturato, secondo la logica IEA, non richiede spostamenti o assenze dall'azienda. Si sposa pertanto perfettamente con i ritmi di ogni azienda, senza necessità di interruzioni di produzione o modifiche alle pianificazioni di attività dei singoli discenti. I corsi possono essere seguiti da qualsiasi computer, sette giorni su sette, 24 ore su 24. IEA prevede anche la possibilità di effettuare il download dei corsi in modalità offline, qualora il cliente lo desideri. Momenti di verifica della formazione, attraverso test evoluti, possono essere inseriti all'interno del percorso formativo e come esame conclusivo alla fine del corso. E' possibile anche il rilascio di regolare attestato di partecipazione, garanzia per l'azienda di uniformità del livello conoscitivo delle proprie risorse. La piattaforma tecnologica utilizzata da IEA e Ilias, progettata dall'Università di Colonia, è la più avanzata in ambito e-learning, tanto da essere già utilizzata da numerose aziende ed università europee. Ilias è altamente performante e la sua maggior peculiarità risiede nel repository, un luogo virtuale dove vengono memorizzati i learning objects. I learning objects sono contenuti video e immagini, mediante i quali si costruiscono i moduli formativi, dove la modularità e la riutilizzabilità diventano il vero aspetto distintivo del progetto IEA. I metatags abbinati ai learning objects rendono poi perfettamente ricercabile l'intero modulo formativo. Inoltre, grazie alle potenzialità del repository, i contenuti, quindi il know-how aziendale, viene organizzato, strutturato e validato, rendendolo immediatamente e velocemente disponibile secondo le necessità. Attraverso il sistema Ilias si possono gestire file di ogni genere, dai contenuti ai file grafici, slide o disegni tecnici, fino ad arrivare ad elementi multimediali di qualità che riprendono un docente in aula o un meeting, piuttosto che una macchina funzionante o le operazioni di manutenzione sulla stessa. L'inserimento dei file e dei contenuti è molto semplice e non richiede grandi competenze di linguaggi di programmazione. Le modalità con cui i corsi vengono costruiti da IEA rispondono a logiche di fruibilità e di navigabilità tipiche del web, aggiungendo inoltre valori al percorso formativo e all'attenzione del discente mediante l'utilizzo alternato di testo, immagini e video. IEA, il futuro delle imprese passa attraverso l'e-learning.